In un momento di grande emergenza economica, con il periodo di sospensione delle attività lavorative e la conseguente crisi di liquidità, assume particolare rilievo l'aspetto del canone di locazione per gli esercizi commerciali. Per mantenere il regolare svolgimento delle dinamiche imprenditoriali e scongiurare l'insorgere di fenomeni di speculazione e di infiltrazione criminale, alla Prefettura di Pistoia è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra il Prefetto Gerlando Iorio, le principali associazioni di categoria e di sindaci dei comuni di Pistoia, Montecatini Terme, Agliana, Monsummano Terme, Pesce e Quarrata, per agevolare il mantenimento dei contratti di affitti commerciali. Quello firmato stamattina possiamo definirlo un protocollo di solidarietà? Senz'altro, tutte le iniziative a livello nazionale fino a livello locale che sono state adottate in questi mesi terribili e di ancoscia per tutti quanti, hanno tutto quel substrato di legarsi a un principio di solidarietà che è quello che ovviamente fa di una nazione una comunità civile, una comunità matura. È il principio, credo, uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione e che va sempre tenuto presente, che deve ispirare sempre tutte le iniziative e soprattutto in momenti dove assistiamo, che ci sono categorie che hanno più bisogno magari di altre, di essere accompagnate nella attività di riprese e di recupero. Un protocollo firmato anche in tempi brevissimi? Sì, devo dire, devo riconoscere però che si è stato fatto già un lavoro preparatorio dalla Prefettura di Firenze che ha adottato analoga iniziativa. La Prefettura di Firenze è stato un po' il punto di riferimento in tutte queste iniziative in materia di Covid-19 in questi mesi e lo è stato anche in questo caso. Si cerca di trovare una quadra fra le esigenze appunto dei commercianti e quelle dei proprietari dei fondi. Bisogna cercare di condividere la necessità di ridurre i costi da parte appunto dei commercianti con la giusta necessità anche di avere un reddito disponibile per i relativi fondi da parte delle proprietà.